Alla vigilia dell'assemblea CCPL il colosso edilizio anticipa la notizia dell'uscita di CMR ed Orion, la crisi del settore muta gli equilibri in campo. Domani nuova manifestazione della CGL reggiana, intanto non calano i lavoratori in provincia interessati agli ammortizzatori sociali. Un gruppo di aziende reggiane pronte ad investire per recuperare i capannoni delle ex reggiane, primo passo per una riqualificazione d'area. Contro il carovita alcuni negozi reggiani abbassano i prezzi, boom di clienti al caffè Relax di via Emilia San Pietro dove la tazzina costa 70 centesimi. Sabato un gruppo di cittadini di Cadelbosco si mobiliterà per sanare alcune zone del paese con segnali di degrado. Giovedì 19 aprile, buona serata a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Il gruppo industriale cooperativo CCPL presenta i risultati 2011. Escono di scena la CMR in fase di concordato, l'Orion e una cooperativa di Piacenza. Ma sentiamo tutti i dettagli da Isabella Trovato. La crisi dell'edilizia rimbomba anche all'interno del gruppo industriale cooperativo CCPL che a 24 ore dall'assemblea di bilancio anticipa l'uscita di scena della ex cooperativa Muratori Reggiolo in fase di concordato di una cooperativa di Piacenza e dell'Orion. Anche quest'ultimo colosso della cooperazione reggiana impegnato nell'edilizia ritira la sua quota sociale. 3 milioni di euro che garantiranno una iniezione di liquidità alla cooperativa. Essere soci di CCPL non è una tassa, non è un obbligo, è un'opportunità. Queste cooperative hanno scelto, in ragione delle loro strategie, del rapporto che loro hanno con i propri soci, di recuperare gli investimenti che hanno fatto presso di noi per utilizzarli per le loro politiche, per le loro strategie. Lo trovo molto logico. Ma CCPL guarda avanti, reagisce alla crisi, producendo un utile di un milione e mezzo di euro e con 44 milioni di investimenti, un 30% in più rispetto al 2010 ed un patrimonio netto complessivo di 168 milioni di euro. Ed è sempre l'amministratore delegato Ivan Soncini a sottolineare il valore aggiunto di questi investimenti, dirottati su un'alleanza con le cooperative di consumo, non solo Coop Nord-Est ma anche Coop Estense per la distribuzione di carburanti in rete e nella produzione di imballaggi per alimenti freschi. È recente l'acquisizione di un'azienda in Francia. In difesa del mondo Coop e dei valori del sistema, il presidente Mauro Casoli. Tengo a rimarcare il senso di responsabilità sociale con cui ha reagito il mondo cooperativo cercando di sostenere le situazioni di difficoltà, cercando di attivare rapidamente una realtà in grado di recuperare il disagio occupazionale e generando risorse finanziarie da mettere a disposizione per quelli che da queste vicende sono stati più colpiti. Intanto sulla scena di CCPL si affaccia a una nuova cooperativa fatta dai dipendenti del gruppo che avrà il suo peso nelle decisioni strategiche. Prima di tutto proprio perché il gruppo CCPL è una cooperativa di secondo livello quindi non ammette soci, persone fisiche, si è sentito la necessità di creare uno strumento che permettesse ai dipendenti di partecipare attivamente alla vita dell'impresa e alla scelta dell'impresa. Ed ora veniamo alla cronaca. Attimi di paura questa mattina all'azienda Ellecautomazioni di Arceto di Scandiano dove l'operaio Simone Guercettani è stato colpito da una scarica elettrica di 380 volts. Soccorso dai sanitari e le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Su un infortunio sta indagando la medicina del lavoro di Scandiano. Ancora cronaca è stata rapinata oggi poco prima delle 15.30 la filiale Unipol in piazza Benderi a Cavriago. Un uomo che indossava un paio di occhiali armato di coltello ha seguito un cliente che stava entrando e si è fatto consegnare dalla cassiera 500 euro, poi è scappato a piedi. Le ricerche si sono orientate tra Reggio e Parma, intanto i carabinieri stanno cercando di identificare il rapinatore dalle immagini del sistema di videosorveglianza. Cambiamo argomento, domani nuovo sciopero provinciale della CGL con corteo in centro storico. Intanto resta stabile il numero dei lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali. Un altro sciopero con manifestazione da parte di CGL che questa volta non interesserà la grande viabilità ma si limiterà alle vie del centro di Reggio contro le misure del governo Monti e i tentativi di riforma del lavoro. Tutte le categorie del sindacato, d'eccezione del trasporto pubblico, daranno vita un'altra giornata di lotta partendo al mattino da Viale Montegrappa per arrivare in Piazza della Vittoria con i comizi finali. Sono molti i pullman di lavoratori che dalla provincia porteranno i manifestanti nel comune capoluogo. Intanto i dati provinciali della crisi non danno tregua all'osservatorio mensile di CGL. Presentando i dati di marzo conferma quasi 10.200 i lavoratori reggiani che continuano a ricorrere alla cassa integrazione con un aumento di 400 unità per coloro che sono interessati alla cassa integrazione straordinaria. Dall'inizio della crisi nel 2008 ad oggi sono state complessivamente 133 le aziende locali che hanno attiviato procedure di mobilità per circa 2.200 persone. Il dato totale sul lavoro 2011 però è più confortante per la nostra provincia. Secondo gli stati infatti l'occupazione sarebbe aumentata dell'1,1% dopo due anni di discesa. Gli occupati nel reggiano sono tornati ad essere dunque oltre il 67%. E' finita la carriera da ladra della badante che ripuliva gli anziani. Condannata a due anni e sei mesi di reclusione e divenuta esecutiva la sentenza, per la russa Galina Toccareva, residente a Reggio, si sono così aperte le porte del carcere. Le indagini sulla badante ladra erano iniziate dopo un litigio con un anziano che assisteva in Viale Olimpia a Reggio e che l'aveva accusata di averlo picchiato per rubargli 1.300 euro. I soldi in effetti furono trovati nella sua borsa assieme ad altri 29.000 euro nascosti in un doppio fondo e sicuramente denaro preso ad altri poveri anziani. Un pool di aziende reggiane pronte ad investire per recuperare i capannoni nell'area delle ex reggiane. Ma resta l'incognita della proprietà del terreno ancora del patron Fantuzzi. Difficile l'accordo sui costi reali. Sentiamo Cristiana Boni. Si dicono pronti ad investire nell'area delle reggiane anche e nonostante la crisi economica. L'elenco delle aziende è emerso in queste ore in cui è stato presentato il progetto di uno dei gruppi al lavoro da diversi mesi per cercare di dare idee e concretizzare il rilancio della zona nord della città attorno ai ponti di Calatrava. Ask Industries, Largo Tractors, la Landi Renzo e un pool di imprese associate al club digitale degli industriali sono solo alcune delle realtà che hanno espresso al comune interesse al progetto del polo della meccatronica, quindi disposte a investire denaro nei capannoni lasciati liberi dalla multinazionale Terex che comprò solo le reggiane lasciando libere queste strutture. Si parla di un investimento di svariate decine di milioni di euro. Un'operazione non semplice. C'è poi l'incognita della proprietà dei terreni su cui sono questi capannoni ancora di proprietà di Luciano Fantuzzi. Poco disposto pare a scendere sotto i 70 milioni di euro. Questo gli permetterebbe di far fronte all'attuale esposizione bancaria. Il valore reale si aggirerebbe sui 100 milioni di euro, ma viste le condizioni del mercato e la crisi qualcuno ha già previsto che l'incasso reale non supererà i 40 milioni di euro. Dunque il progetto è interessante, la cordata c'è, ma le variabili sono ancora molte. Circa 10.000 clienti del teleriscaldamento residenti in 500 condomini cittadini in cui si effettua la ripartizione dei consumi riceveranno nei prossimi giorni la nuova fattura del servizio che è stata predisposta da IRE Mercato, che ha coinvolto le principali associazioni dei consumatori. Il nuovo documento risulta modificato nella struttura e nella grafica per rendere più chiara e comprensibile l'esposizione dei dati. Altra novità è la variazione della periodicità di fatturazione per rendere il più possibile equilibrati gli importi fatturati in ciascun periodo. Il numero di fatture annuali rimane invariato. Prime testimonianze in tribunale delle ex pazienti del dottor Detatta di Guastalla accusato di violenza sessuale, ma il caso è controverso. Ad accusarlo una decina di donne delle oltre mille che ha seguito in tanti anni di attività. Professionista scrupoloso e affidabile, seppur originale o maniaco che con la scusa delle visite mediche dava sfogo alle sue mire sessuali. Sembra sospeso tra questi due identichiti il dottore Emilio Detatta, con studio in via Cisaligure a Guastalla, ha processo per i metodi poco ortodossi del suo lavaggio energetico ed emozionale che la procura accusa di violenza sessuale e truffa. Fu scoperto da Striscia la notizia. Sopranominato dottor Hard, in tribunale a Reggio, rigorosamente a porte chiuse, vista la delicatezza del caso, sono sfilate le prime testimonianze delle pazienti. Centinaia, le persone che si sono rivolte a lui in questi anni, un migliaio in tutti i pazienti accertati, di questi soltanto una decina avrebbero sollevato delle contestazioni. Nei racconti la sua abitudine di fare un prelievo di sangue dall'orecchio per poi conservarlo mesi, da lì spiegava si potevano seguire le condizioni del paziente. Ma a sconvolgere alcune donne furono le sue domande sulla loro vita sessuale. A molte diceva che il problema di salute era legato a un blocco sessuale e che dunque dovevano praticare di più e nel frattempo massaggiava loro addome e pube senza mai peraltro andare oltre. Ascoltati anche i carabinieri del NAS, alcune pazienti si sono costituite parte civile. Prossimo udienza il 23 maggio quando saranno sentite altre persone. Nel frattempo lo studio è stato sequestrato, il medico ha sempre respinto con forza tutte le accuse. È in aumento in città il numero di persone che vivono condizioni di precarietà abitativa e che possono essere considerate senza fissa dimora. Questo fenomeno si è reso particolarmente evidente in occasione della stagione invernale caratterizzata per diverse settimane da temperature particolarmente rigide. Grazie ad una stretta collaborazione tra Comune di Reggio, Caritas Diocesana e Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, parrocchie cittadine e all'attivazione di una serie di volontari, la città è stata tuttavia in grado di offrire ospitalità e di mettere a disposizione 177 posti per l'accoglienza. L'inverno precedente, l'unica struttura attiva oltre a quelle parrocchiali, era infatti il dormitorio di Caritas. Nell'inverno appena trascorso sono state invece 22 le realtà coinvolte tra parrocchie, strutture pubbliche e strutture private coordinate dal Centro Papa Giovanni. Ed ora cambiamo argomento. Caffè a 70 centesimi. È l'iniziativa di un barista che, stanco di vedere vuoto il locale per colpa della crisi, ha deciso di riempirlo abbassando i costi. Sentiamo Isabella Trovato. Vi ricordate cosa costava una tazzina di caffè ai tempi delle lire? Mille lire. Con l'introduzione dell'euro l'attesa per gli avventori dei bar era che un caffè costasse 0,50 cents. Così non fu e si registrò da subito l'impennata del costo, pari a 80 centesimi, fino a quello attuale un euro. E con una brioche sono due, con il risultato che non è più così scontato fermarsi in un bar a prendere il caffè. Ma la crisi si fa sentire anche nei locali pubblici. E così c'è chi decide di invertire la rotta e abbassare il costo della tazzina a 70 centesimi, riempendo il locale di avventori. È il caso del Relax Caffè di Via Emilia a San Pietro in centro a Reggio. Una scelta ardita che ha trasformato il titolare Amedeo in un eroe per gli amanti del caffè. Non solo caffè e pasta a 1,50 euro, insomma un bel risparmio. Anche al bar dell'università il prezzo praticato per il caffè è inferiore a 1 euro. È stata un'idea che l'abbiamo fatta più che altro per incentivare un po' il bar. Dovuto al prezzo del caffè, che è molto eccessivo in questi periodi, visto che la gente è proprio senza soldi. E allora niente, abbiamo deciso di fare questa promozione che non è che ci guadagniamo tantissimo. Adesso ormai siamo quasi al pari con il costo del caffè e con quello che lo vendiamo a 70 centesimi. Quel che è certo è che per uno stipendio medio di 900 euro, anche l'euro per il caffè fa la differenza. Un incontro urgente per mettere a fuoco i risultati finali del lavoro del tavolo tecnico da lei istituito. È questa la richiesta contenuta nella lettera che il sindaco di Reggio e presidente del Lanci, Graziano Del Rio, ha inviato al presidente del Consiglio Mario Monti. Del Rio sottolinea come l'introduzione dell'IMU si è trasformata in un boomerang per i comuni che chiederanno ai cittadini di pagare, non avendo in cambio né il gettito né la liquidità, mettendo seriamente a rischio fin anche il pagamento degli stipendi ai lavoratori. Prosegue Del Rio, stiamo organizzando per il 24 maggio a Venezia una giornata di mobilitazione. L'Assemblea dei Soci di Borea, formata dai delegati di 41 società, ha approvato il bilancio consuntivo 2011. L'esercizio contabile si è chiuso con un positivo di 107.862 euro e un utile anteimposte di 21.546 euro. Al termine dell'Assemblea dei Soci si è riunito il CDA della cooperativa che ha confermato la presidenza, Ildo Cigarini. Il presidente ha nominato due vicepresidenti, Morris Ferretti, confermato, e Luca Bosi. Ed ora ci fermiamo perché c'è la pubblicità, ci vediamo dopo. Siamo pronti per la seconda parte del nostro OTG, prima però come sempre il riepilogo dei fatti del giorno. Alla vigilia dell'Assemblea CCPL, il colosso edilizio anticipa la notizia dell'uscita di CMR ed Orion. La crisi del settore muta gli equilibri in campo. Domani nuova manifestazione della CGL reggiana, intanto non calano i lavoratori in provincia interessati agli ammortizzatori sociali. Un gruppo di aziende reggiane pronte ad investire per recuperare i capannoni delle ex reggiane, primo passo per una riqualificazione d'area. Contro il carovita alcuni negozi reggiani abbassano i prezzi. Boom di clienti al caffè Relax di via Emilia San Pietro, dove la tazzina costa 70 centesimi. Sabato un gruppo di cittadini di Cadelbosco si mobiliterà per sanare alcune zone del paese con segnali di degrado. Torniamo alla cronaca. Stavano rubando acciaio delle tubature di areazione e riscaldamento nell'ex discoteca del complesso Poggio 70 alla veggia di Casalgrande, ma sono arrivati i carabinieri. In carcere sono così finite due persone di origine siciliana residenti a Sassuolo di 29 e 34 anni. I due avevano posizionato il loro furgone in via Toscanini pronti per il colpo. Poca manutenzione in piazza e al parco pubblico di Cadelbosco sopra. Così entrano in campo la politica e i volontari che sabato si mobiliteranno per chiudere buchi e ripulire alcune zone del paese. Antonio Lecci. Dove non arrivano le istituzioni ecco che ci pensa il volontariato. È così per il settore sociale, per l'assistenza ai bisognosi e ora in tempo di crisi anche manutenzione e pulizia dei luoghi pubblici diventa oggetto di attività e di persone disponibili e generose. A Cadelbosco sopra ci sono situazioni che qualcuno considera come un degrado, ancora più grave quando riguarda spazi situati nel cuore del paese e i luoghi frequentati da bambini e famiglie. Per questo il PDL di Cadelbosco ha deciso di scendere in piazza con volontari attrezzati per sistemare alcuni punti del centro storico che non sono in condizioni ottimali. Il PDL segnala infatti come ci siano buchi sulla piazza, così come il mosaico centrale, col simbolo del paese, ha perso gran parte delle sue tessere. Nelle due fontane non scorre acqua e da tempo manca la manutenzione. Il PDL dice di raccogliere anche la mentela dei commercianti, gli stessi che cercano di prendersi cura della piazza, ma non basta. Problemi anche al parco pubblico vicino al bocciodromo, dove spesso giocano i bambini. Qui ci sono situazioni igienico-sanitarie precarie, con le esette in cemento, piene di sporcizia e scrementi vari. E per sabato mattina è prevista dunque la mobilitazione di alcuni cittadini che si recheranno in piazza, armati di attrezzi buona volontà, per sistemare l'area ma anche il parco pubblico. Una legge che fa bene al commercio, che tutela l'operato degli onesti lavoratori e che si oppone a brulicare di fenomeni criminosi grazie a regole fiscali certe. A fronte della grande diffusione dei compro oro, che ha investito anche la nostra città, a prendere posizione è la presidente provinciale di CNA Commercio, Annarella Ferretti, che applaude la proposta di legge per la regolamentazione dei compro oro. Speriamo, prosegue la Ferretti, che alimenti il dibattito anche in città per arrivare a regole certe. Si intitola Viaggiatore Viaggiante, la mostra che unisce un progetto artistico di sei reggiani che a loro modo raccontano del mondo negli spazi di Palazzo Ducale a Guastalla. Che senso assume il viaggio ai tempi di Facebook o Google Maps? Lo spiega la mostra Viaggiatore Viaggiante, un progetto artistico di Marco Arduini, Massimo Canutti, Lorenzo Criscuoli, Stefano Grasserri, Lero Levrini e Daniele Lunghini attraverso le colonne del mito. Dopo il successo discorso nel 2011, sei autori reggiani tornano a Guastalla con un nuovo progetto espositivo aperto fino al 29 aprile nella prestigiosa sala del Palazzo Ducale, al Museo della Città. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Circolo degli Artisti di Reggio Emilia, è patrocinata dal comune di Guastalla. Una cinquantina di opere diverse per poetica e linguaggio, ma accomunate dall'interesse per il racconto. Se Arduini dipinge il miracolo economico degli anni 50, Canutti propone una ricerca più esoterica e minimalista, mentre Criscuoli, con le sue pittosculture, dà vita a piccoli scenari teatrali. Grasselli va a caccia di demoni provenienti da chissà quali galassie, Levrini veste i propri manichini come metiche rifrangenti, Lunghini per finire un esponente di quell'arte che dipinge navi su tela utilizzando acrilico e china. Ad accogliere il visitatore una grande installazione di Daniele Lunghini titolata Neucropolis esiste, un dirigibile in legno, tela e gomma sospeso nell'androne del palazzo. Il percorso della mostra comprende inoltre un grande libro d'artista e la proiezione del video Viaggiatore Viaggiante, diretto da Daniele Lunghini e interpretato dall'attrice neozelandese Nicky Murphy. Domenica scorsa si è svolta l'assemblea elettiva dell'Aido provinciale di Reggio Emilia. In questa occasione, dopo aver conferito la carica di presidente onorario al presidente uscente Gianfranco Bonacini, si sono svolte le elezioni dei nuovi membri alle cariche provinciali. Presidente, è stato eletto il dottor Enrico Spallanzani. Il 27 maggio, ricordiamo che sarà la giornata nazionale donazione e trapianto di organi e tessuti e l'Aido sarà presente sul territorio provinciale con banchetti informativi e iniziative. C'è la pubblicità, ci vediamo dopo. Il meteo è offerto da Gruppo Ponzi Investigazioni Indagini e informazioni commerciali Indagini confidenziali, matrimoniali e su problematiche giovanili Gruppo Ponzi Investigazioni e sicurezza A Reggio Emilia invia Giorgione 2 www.ponzi.it Ed eccoci alle previsioni del tempo su Reggio e Provincia per domani, venerdì 20 aprile. In pianura, nuvolosità variabile con piogge sparse, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate. Dalla sera, cielo velato per nubi alte. Le temperature domani saranno comprese tra gli 8 e i 17 gradi. Tili Tricolore Meteo Il meteo è stato offerto da Gruppo Ponzi Investigazioni A Milano, Brescia, Verona, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Firenze Gruppo Ponzi Investigazioni e sicurezza A Reggio Emilia invia Giorgione 2 www.ponzi.it Ed ora siamo arrivati alla pagina degli appuntamenti Da domani a domenica, 22 aprile, in corso Garibaldi Segnaliamo il mercatino francese e il mercato dei colori E poi domani partono le giornate della laicità Sarà Carlo Flamigni, padre della fecondazione assistita Ad aprire appunto queste giornate Domani pomeriggio alle 17 Presso la Sala degli Specchi del Teatro Valli Al centro Kaleidos di Poviglio Domani sera alle 21 Lo spettacolo Mi farà male il grasso del prosciutto Dal diario di Elis Bassi Con il ricavato a scopo benefico Alle 19 Alla saletta civica a Mancasale Letture e musiche su Dante all'Inferno Dedicata alla Divina Commedia E poi passiamo a Casalgrande Al teatro alle 21 Andrà in scena il Barbiere di Siviglia Con gli artisti selezionati al concorso di canto Intitolato a Claudio Barbieri E poi da Casalgrande Andiamo a Castelnuovo Monti Dove al teatro alle 21.30 Andrà in scena il concerto del gruppo L'Associazione Che presenterà in anteprima il nuovo album A Strapiombo Alla teatro di Novellara Sempre domani sera alle 21 Don Andrea Gallo recita in Io non taccio Le prediche di Girolamo Savonarola A San Martino in Rio Sempre domani sera e sempre alle 21 La presentazione del libro La Pachino Paraggi di Roberto Vellani Infine al fuori orario di Taneto Il concerto di Flexus E il coro delle Mondine di Novi E con questa lunga pagina degli appuntamenti Si chiude a questa edizione del nostro tre giornale Non prima di avervi ricordato I principali fatti di oggi Alla vigilia dell'Assemblea CCPL Il colosso edilizio anticipa La notizia dell'uscita di CMR ed Orion La crisi del settore muta gli equilibri in campo Domani nuova manifestazione della CGL reggiana Intanto non calano i lavoratori in provincia Interessati agli ammortizzatori sociali Un gruppo di aziende reggiane Pronte ad investire Per recuperare i capannoni delle ex reggiane Primo passo per una riqualificazione d'area Contro il caro vita Alcuni negozi reggiani abbassano i prezzi Boom di clienti al caffè relax di via Emilia San Pietro Dove la tazzina costa 70 centesimi Sabato un gruppo di cittadini di Cadelbosco Si mobiliterà per sanare alcune zone del paese Con segnali di degrado Siamo arrivati alla fine anche per questa sera Grazie per averci seguito Termina qui questa edizione del nostro telegiornale Buona serata Grazie per averci seguito